Dopo l'incontro di ieri tra l'assessore regionale e le politiche del lavoro Pietro Quaresimale e i vertici della Betafancy Tortoreto, oggi secondo incontro, ma questa volta tra sindacati e le aziende, per verificare lo stato di attuazione dell'accordo sottoscritto in Regione lo scorso 2 marzo. Ricordiamo che la Betafancy Tortoreto è stata al centro di una vertenza regionale, partita con la dichiarazione di chiusura dello stabilimento di Tortoreto e terminata con intesa che salva lo stabilimento e avvia un'azione di ristrutturazione con ricadute su occupazione e lavoro. Il segretario Boccanera è stato un lungo incontro, però poi alla fine la cosa più importante è che siete riusciti a portare l'accordo a casa. Sì, è stato un incontro abbastanza sofferto, su molti punti non eravamo d'accordo, si sono stati anche inizi di rottura di tavolo e comunque alla fine siamo riusciti a trovare l'acquadra, siamo molto soddisfatti sull'accordo, siamo soddisfatti anche perché siamo riusciti a mettere in sicurezza per un anno i lavoratori e quindi non verrà licenziato nessuno di fatto. È migliorativo anche dal lato economico perché comunque l'azienda si accollerà il 70% di quello che perderanno i lavoratori stando in cassa in solidarietà. È quindi un ottimo accordo, quello di meglio non potevamo fare. Ovviamente è un accordo basato solo sull'amortizzatore sociale, tra l'altro abbiamo messo alla fine anche che il prossimo anno l'azienda si renderà disponibile anche a ridiscutere un'ulteriore proroga se sarà necessaria. Quindi di fatto possiamo anche sperare di continuare con la solidarietà. Ovviamente rimaniamo sul pezzo, ovviamente non è finita qui. Per il momento siamo tranquilli, abbiamo messo in sicurezza i lavoratori, sia economicamente che stabilmente all'interno della beta, ma comunque monitoreremo sempre la situazione fino a quando non si stabilizzerà definitivamente quello che è stato ratificato oggi. C'è stato un grande lavoro da parte dei sindacati, dei lavoratori ma anche del mondo della politica. Sì, devo dire che comunque in sinergia con la regione Abruzzo siamo riusciti a fare un ottimo lavoro. Ovviamente non dimentichiamo la lotta dei lavoratori perché dal 28 di luglio i lavoratori sono stati sempre presenti, sono stati sempre coesi, sempre compatti e hanno seguito le indicazioni delle rappresentate sindacali fino ad arrivare oggi a questa conclusione storica che sia per la beta, penso che per il territorio, perché penso che un accordo del genere in poche altre realtà sia stato fatto. Manca però un ultimo passaggio. Sì, lunedì ratificheremo quanto è accaduto oggi, ovviamente con il voto dei lavoratori che si riuniranno in un'unica assemblea lunedì mattina e i lavoratori ci daranno il via se firmare o meno l'accordo. Sicuramente non ci sarà problema, ma comunque la parola aspetta sempre ai lavoratori che sono la parte interessata.